Con Carlo Brandini Dini diamo unanimemente il puntone all'iniziativa della nazione perché ovviamente chi è che non è da parte della polizia, solo i delinquenti però quando deve il cittadino fare una colletta per mettere la benzina alla polizia non è che siamo alle tele, siamo a Cercioni o sbaglio? No, sicuramente l'iniziativa della nazione è stata una provocazione molto bella però se fosse una cosa seria io la penso come te cioè se ora si incomincia che i privati, i cittadini cominciano a pagare qui si comincerà a pagare le maestre che non va più all'asilo si comincerà a pagare quelli... Ascolta che non la danno più? No, no, la danno Sì? Sì, ma quelle si sono sempre pagate Sì, ma ho notizia di dirci e la danno Sì, sì Sì, no a me perché io pagherei di molto più però effettivamente l'iniziativa come provocazione è stata simpatica e intelligente però giochiamola lì perché quando uno Stato è andato a mandare ma poi si vede insomma si fa una rapina al piano centro significa essere poco nel territorio, avere pochi mezzi è palese a tutti Te che volevi dire? Io dicevo che se devo adottare adotto un carabiniere almeno faccio un figurone anche da intelligente Sì, è logico Agiragginzi È logico, è logico È una roba a tutte, perché ora mi fermo i carabinieri e fanno un borciolo Allora, veniamo alla cronaca locale La nazione su Arezzo riporta due foto Fanfani e Vasai che sono rispettivamente per chi non li conoscese il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani e il presidente della provincia Roberto Vasai dicendo che nelle statistiche famose che fanno tutti gli anni Vasai sale e Fanfani Scusa, ma fra poco scende, non l'abolisco le province No, sale come gradimento Ah, ecco Come gradimento A gennaio dovrebbe scendere Ma secondo te che vuole le province? No, non fa niente Ma ancora credi alle cazzate che dicono i politici? No, io Ah, io se c'è uno che proprio Ho fatto già uno E io chiarisci alla gente che sono cazzate le quali non credere Ma per l'amor di Dio Ma per me sono tutti poveri Quindi Fanfani scende Sì E ha meno gradimento Perché secondo te? No, per me è un successo dei Fanfani Perché avere un meno gradimento dello 0,1% è successo Perché per quello che fa Però ora che oggi è impegnato molto C'è la fare Tagliare qua C'è se taglia Oggi taglia del mercatino Ah, hai già Taglia il nastro, sì Cioè l'impegno ce l'ha Perché lui poi non riceve la gente E vabbè ma c'è la taglia Il parcheggio te la do io tutte le sere Per motivi professionali Che vado a giocare a carte all'olmo Ah, per motivi professionali Sì, dopo andare a giocare a carte Passi dal parcheggio e gli vieni a cenare Ce ne tre La pandina che è nel comune Poi c'è una Tre, tre macchine tutte le sere Ieri sera ce ne erano cinque Ora, questi due giorni fanno il pieno Perché o le mettono lì o le mettono all'aeroporto Quindi De Peretola Sì E quindi è chiaro Ora ritorneranno i giornali pieni Niente, quello è fallimento Però pensa Quello è fallimento Però pensa che il sindaco L'altro giorno Quando i banditi hanno fatto la rapina dal Prosperi Sì Che hanno tagliato la corda a piedi Lui ha tagliato il nastro Ha detto No, se c'era da tagliare la corda vengo io In qualsiasi cosa c'è da tagliare Ah no, che devo averse tagliato il nastro No, lui vuol tagliare Vuol tagliare E il Dini per dire Quando avvia le bistecche della Cianina Lui ce ne vede Fanfani Già, ma Fanfani c'è da tagliare Da tagliare vengo io Porta la coltella tricolore Capito? Comunque Fanfani È vero che siamo su questi livelli Ma l'opposizione Ad Arezzo Comune È proprio Lavorano come bestie Ma lui, devo dire una cosa Che lui non è uno molto aperto È uno che sta un po' sulle sue Anche sulle mie, devo dire Però sta parecchio sulle sue Sì, ma anche sulle due C'è un altro 3 o 4 Qui in Piazza Michele Sei proprio sveglio oggi Stamaglio 6 per 8? 43 Visto? Io in matematica sono stato C'è altro da dire o si sa niente? No, no, c'è altro da dire C'è da dire che siamo tutti contenti Di questa situazione Oggi aprono i mercatini Ma te tanto stasera De la scena alla Torretta Sì, sì Salutamelo Marco, la Torretta Come si mangia bene? Chi va e te? Che ti importa? No, per farlo sapere allora La gente vuole sapere il privato Siamo I capitani, i vitelloni Siamo una ventina Una ventina Te non vieni, te non vieni No Gente che da 20 anni Anche 30 Ma forse oserei dire 40 Sì Non fa un cazzo Poi piglia i giornali E da punto Sì, sì Ti invece hai lavorato di molto Ora ormai il tempo è scaduto Alla prossima Questa altra volta Arrivederci Ciao